E' finito finalmente in carcere Ramis Floriani, il 44enne accusato di atti persecutori, lesioni aggravate in concorso, minacce, porto di oggetti, atti ad offendere e violazione di domicilio. L'uomo, lo ricorderete, era finito i domiciliari dopo la spedizione punitiva nella casa dell'ex moglie, dove assieme ad altri tre parenti, tra cui una donna, armato di mattone, aveva picchiato tutti i presenti, compreso una bimba di un anno. All'origine dell'atto, la denuncia, sporta dall'ex compagna dopo mesi in cui era stata pedinata, picchiata e minacciata di morte, perché lei, donna, non avrebbe mai dovuto permettersi di chiedere il divorzio da quello che non riconosceva più come suo marito. Dopo la denuncia della vittima dell'inaudita violenza, sono seguite quelle di altri familiari, che hanno confermato l'accaduto, aggiungendo particolari ancora più inquietanti. Il giudice ha così disposto la carcerazione per Floriani, considerando, oltre alla pericolosità dell'uomo, anche l'incompatibilità tra il luogo della detenzione domiciliare e quello dove erano caduti i fatti. Lui rinchiuso a San Pio X, l'ex moglie, custodita in una struttura protetta, potrà ora ritornare nella sua casa.